Salve Farantubers, siamo tornati con un altro entusiasmante riassunto settimanale della serie A. Pronti per una corsa piena di sorprese e di emozioni? Questa settimana è stata una montagna rossa di emozioni e noi siamo qui per accompagnarvi. Quindi, prendete posto e preparatevi a godervi una corsa emozionante attraverso i risultati della settimana. Non perdetevi nemmeno un secondo. Farantubers, ma non siete stufi di guardare i video su YouTube e non lasciare una singola interazione? Ma che siete dei polli senza pollici opponibile? Bene, se avete un minimo di dignità umana, allora dovete assolutamente lasciare un like, commento oppure condividere questo video nel nostro canale Farantube Sports. Se lo farete, vi garantiamo che diventerete delle star dello sport. Inoltre, se ci lasciate un commento con la vostra previsione per la prossima partita di calcio, noi saremo felici di scommettere i nostri soldi su di voi. Quindi, se volete dimostrare di essere degli sportivi veri e propri, lasciate un'interazione al nostro video e fateci vedere che avete un cuore pulsante sotto quei muscoli di atleti. Ma ora, cominciamo a parlare del primo risultato della scorsa settimana, Sassuolo contro Spezia. Come anticipato prima della partita, la vittoria del Sassuolo non è stata una sorpresa, visto che i pronostici li davano per favoriti. Questa partita era ideale per coloro che preferiscono strategie di scommessa meno rischiose e che possono ottenere profitto dal risultato finale. Nei minuti finali della partita, un rigore è stato decisivo sul tabellone e l'arbitro Di Gersini ha assegnato un calcio di rigore al 71esimo minuto. Il successo del Sassuolo è di peso dal Domenico Berardi, che è riuscito a segnare il calcio di rigore ed esicurarsi la vittoria. Il risultato finale della partita tra Sassuolo e Spezia dimostra l'ottimo momento della squadra allenata da A Dionisi, che ora accumula quattro vittorie consecutive negli ultimi turni di campionato. Durante la partita le squadre hanno faticato a segnare gol, tuttavia al 71esimo Domenico Berardi del Sassuolo è riuscito a segnare il gol della vittoria. Anche se il punteggio è stato basso, i tre punti sono stati assicurati alla squadra. Nonostante la cattiva prestazione, il Sassuolo è riuscito comunque a vincere la partita. Durante i 90 minuti di gioco ha effettuato 16 tiri in porta, di cui soltanto 5 sono andati a segno. Lo Spezia invece è stato sconfitto, effettuando soltanto un tiro in tutta la partita, mostrando poco slancio e non riuscendo a contenere l'attacco della squadra avversaria. Ma continuiamo a scoprire cosa ci ha regalato lo scorso fine settimana. Atalanta contro Empoli Lo stadio Gewiss si è trasformato in una pentola a pressione. Atalanta ed Empoli si sono affrontate in un'emozionante partita di calcio della Serie A team. La partita è stata piena di azione e tensione, con i giocatori che hanno lottato duramente per ogni pallone. La partita è stata ricca di emozioni e di abilità, ma è stato Rasmus Holyund a raggiudicarsi il titolo di Player of the Match, grazie al suo splendido gol e alla sua incredibile abilità in campo. Dobbiamo anche sottolineare la grande prestazione di Tyrone e Webi, Delempoli, che ha dimostrato di essere un difensore formidabile segnando un gol e rispingendo sei palloni pericolosi. I tifosi sono rimasti col fiato sospeso per tutta la partita, mentre l'arbitro, Federico Dionisi, ha mantenuto il controllo della gara nonostante i continui falli e i cartellini gialli. L'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha dato il meglio di sé, con una formazione tattica vincente. La partita è stata ricca di colpi di scena. Tyrone e Webi ha aperto le marcature per la sua squadra dopo 44 minuti, ma Martin Deroun ha pareggiato dopo 58 minuti. Il gol della partita è arrivato però all'86esimo minuto grazie a Rasmus Holyund, assicurando un impressionante rimonta all'Atalanta. Nonostante il risultato negativo, l'Atalanta è riuscita a prevalere nella partita. Con 29 tentativi in porta nei 90 minuti, è riuscita a mettere in rete solo 4 tiri per segnare 2 gol della partita.